Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Dopo aver passato due mesi in Messico è arrivato il momento di viaggiare verso una nuova destinazione e in questo video visiteremo insieme Cartagena de Indias, la nostra prima tappa in Colombia. Spero che il video vi piaccia. La nostra prima tappa in Colombia è stata a Cartagena de Indias sulla costa caraibica, una delle città più visitate della Colombia grazie anche al suo centro storico d'epoca coloniale perfettamente conservato. Il suo centro storico circondato da una muraglia è formato da tante stradine, dagli edifici, dai colori vivaci, decorati con fiori e tanti murales. La, 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 la Uno dei posti dove mi è piaciuto di più disegnare è stato sul lungomare con la vista sulla zona degli hotel più famosi della città dove si trovano tutti questi alti grattacieli che si affacciano direttamente sul mare Grazie per la visione Uno dei simboli di Cartagena è sicuramente la torre dell'orologio che un tempo fu l'entrata principale all'interno delle mura e oggi è diventato una delle attrazioni turistiche più visitate della città Grazie a tutti! Grazie a tutti! Il caldo e l'umidità sono soffocanti Le tantissime giornate di sole e di cielo terzo rendono molto piacevole la visita della città anche se nelle ore più calde della giornata l'ideale è stato rifugiarsi all'ombra in qualche parco e approfittarne per dipingere degli scorci di questa bellissima città caraibica Se questo video ti è piaciuto non dimenticare di mettere un mi piace, iscriverti al canale e condividerlo con i tuoi amici e grazie per accompagnarmi in questo viaggio intorno al mondo